Vinciamo in 73 sezioni su 86, se non sbaglio, e siamo avanti in tutte le nove circoscrizioni del territorio comunale. E' analisi di una vittoria che ancora vittoria non è, o almeno non del tutto, quella di Francesco Raspini, candidato del centro-sinistra alle amministrative di Lucca, dopo che le une gli hanno consegnato un vantaggio di quasi 10 punti sullo sfidante Mario Pardini. Il centro-sinistra 5 anni fa prese 13.900 voti circa, adesso siamo a 15.200 e passa, quindi 1.300 voti in più. I cittadini di Lucca hanno valutato positivamente la nostra campagna elettorale, il nostro lavoro sul territorio, il radicamento dei nostri candidati. In sostanza il ballottaggio non si vince con le addizioni, si vince facendo politica e si vince stando sul territorio, parlando a Lucca dei problemi dei lucchesi, ai paesi dei premi dei paesi e non volendo piantare una bandierina in nome per conto di qualche leader nazionale. Tutto si deciderà al secondo turno, un ballottaggio nel quale entrambi i candidati dovranno riportare i propri elettori alle urne e cercare di allargare il campo con le alleanze, guardando agli altri candidati usciti sconfitti. Ma c'è un dato politico nazionale che emerge al di là degli apparentamenti locali, perché se infatti la linea nazionale del PD è quella del campo largo con i 5 stelle, qua a Lucca si guarda al polo di centro. Noi abbiamo l'esigenza di dialogare con tutti quelli che condividono pezzi importanti del nostro programma, gli elettori di Azione e di Italia Viva, che credo possano sentirsi rappresentati dal nostro programma. Nella nostra coalizione Movimento 5 Stelle non c'è.